Nessun'imposizione da parte della Regione Calabria, ma solo un invito a presentare stanza di valutazione di incidenza ambientale presso la Regione Basilicata. La Ecologica 2008, gestore dell'impianto di San Sago, scende in campo ed è pronta a querelare il sindaco di Tortora, Pasquale Lamboglia, per aver diffuso notizie false, tendenziose e fuorvianti. Secondo la Ecologica 2008, inoltre la Regione Basilicata non avrebbe nessuna competenza sull'impianto e la società ribadisce che il provvedimento del Dipartimento Ambientale della Regione Calabria del 9 dicembre 2016, che riguarda il nulla a ossa alla riapertura dell'impianto, dice chiaramente che questo non è assoggettabile a parere di incidenza. Insomma, nessuna chiusura, come veniva ribadito ieri, fin quando non sarà espletato l'iter di valutazione di incidenza ambientale. L'impianto, dicono dalla Ecologica 2008, provvisto di tutte le autorizzazioni, funziona oggi come ieri. Se poi la Regione Basilicata avesse davvero delle competenze sull'opera, invece di partecipare alla saga degli inviti come quello lanciatole dalla Regione Calabria, avrebbe adottato provvedimenti impositivi. Dal canto suo, il sindaco di Tortora, Pasquale Lamboglia, che da parte di Ecologica 2008 è stato apostrofato, sceriffo, risponde così. Questa è una chiave intimidazione nei miei confronti, spero davvero adesso che ci sia una risposta forte da parte delle istituzioni e di quanti hanno a cuore la salute del fiume Noce e del mare. Fatto sta che i pareri sono contrastanti. Infatti, in una nota di Italia Nostra Alto Tirreno Cosentino, che riprende quanto ribadito dal comunicato stampa diffuso ieri, nel quale si esprimeva soddisfazione per la richiesta ai gestori dell'impianto di valutazione di incidenza, vista la vicinanza del depuratore con l'area SIC Valle del Noce, L'associazione chiede però di andare oltre, allargando lo spettro d'indagine, anche i siti naturalistici di interesse comunitario di Maratea, Praia Mare, San Nicola Arcella e Scalea. Per queste ragioni si legge nella nota Italia Nostra attraverso la sua struttura centrale, il suo presidente nazionale Oreste Rutigliano, nei giorni scorsi ha assunto una netta posizione, inviando una nota dettagliata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare e Divisione Biodiversità, con la quale ha sottolineato come proprio nelle misure di conservazione predisposte dal Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria per il SIC Fondali Isola Dino Capo Scalea, adottate con DGR numero 277 del 19 luglio 2016 della Regione Calabria, è specificato che l'inquinamento organico ha causato un intorbidimento delle acque litorali ed una minore penetrazione della luce solare, provocando in qualche caso una progressiva regressione delle praterie di Posidonia nelle aree SIC. Il materiale organico proveniente dal fiume Noce costituisce il principale fattore di inquinamento. Insomma una situazione ingarbugliata che sembra difficile da risolvere, a vincere per il momento è la confusione burocratica.